Siracusa, una parte della sinistra pronta a dialogare per costruire l'alternativa, uniti ma ancora senza un candidato. La sinistra si interroga sul futuro politico a Siracusa, un dialogo per costruire l'alternativa. Occorre come sinistra, riformista e progressista, ripartire dalla difesa dei beni e servizi pubblici essenziali. Da diversi mesi abbiamo avviato un proficuo confronto in vista delle prossime elezioni amministrative, un confronto aperto e inclusivo, rivolto soprattutto all'analisi dei problemi della città e alla condivisione delle relative soluzioni. In un'ottica di programmazione e di visione comune vogliamo porre le basi per la costruzione di un gruppo che guarda con fiducia ai partiti, ai movimenti civici, alle associazioni del campo democratico e progressista, che non rappresenti l'ennesima aggregazione elettorale, ma uno schieramento politico coeso con una ampia convergenza programmatica su cui impegnarsi per un intero mandato amministrativo, in grado di offrire alla città una credibile prospettiva di buon governo, alternativa al centro-destra e in forte discontinuità con il metodo esclusivo e chiuso al confronto dell'attuale amministrazione. Dalla creazione di nuove opportunità di lavoro, al miglioramento dei servizi e delle reti di protezione sociale per le fasce più deboli, dalla vivibilità delle periferie alla salvaguardia del patrimonio culturale, dal sistema dei trasporti e della mobilità sostenibile allo sviluppo ordinato delle attività economiche, con particolare attenzione al centro storico, dal governo del territorio attraverso un moderno piano urbanistico per la regenerazione urbana e l'adattamento ai cambiamenti climatici, alla valorizzazione del rapporto tra la città e il mare, dalla gestione efficiente e sostenibile delle risorse idriche, alla tutela della biodiversità e delle aree di interesse naturalistico, dalla gestione circolare del ciclo dei rifiuti, alla tutela della qualità dell'aria, al diritto allo sport, dal contrasto all'illegalità alla lotta all'evasione tributaria. Il lavoro che ci aspetta è molto impegnativo. Vogliamo affrontarlo con una visione organica, innovativa e attrattiva della città e con la compagina amministrativa più idonea a garantire la realizzazione. Una città unita e forte, che non lascia indietro nessuna, che possa con le proprie risorse tornare ad essere punto di riferimento e guida per la Sicilia sud-orientale. Lealtà e condivisione, Movimento 5 Stelle, sinistra italiana, ex articolo 1, aria e costituente verso il partito del lavoro, 100 passi e verdi. Grazie.